Oggi ho avuto un'importante telefonata con il Ministro degli Esteri Alfano, al quale ho rappresentato i contenuti dell'incontro, ho avuto ieri con alcuni familiari dei tre scomparsi, il Ministro ha preso anche l'impegno su mia richiesta facendomi l'atore di una richiesta dei familiari di incontrarli, il Ministro mi ha anche detto di aver sentito il Ministro messicano e questo l'ha rassicurato che l'autorità giudiziaria sta facendo il massimo, che il Messico farà il massimo perché si accertino i fatti, si individuano i responsabili e poi il tema più delicato se si riesce poi a sapere che fine hanno fatto i tre cittadini napoletani scomparsi in Messico. Quindi mi sembra che l'attenzione sia massima, noi come amministrazioni o come sindaco farò in modo nel raccogliere la richiesta dei familiari, la richiesta di tutti, che questa vicenda non cada nel dimenticatoio fin quando non si sappia la verità su quello che è accaduto e non si abbiano notizie certe sui tre napoletani scomparsi.